Enrico Strano, Enrico invece è Jaguar, nome d'arte, hai partecipato a Tossi Kevales, un ottimo palcoscenico per il lancio soprattutto del tuo ultimo CD. Di che cosa parla? Innanzitutto ti occupi di rap. Sì, di più so fare un po' di tutto, da rap al comico, al ballo, però il mio stile è rap. Innanzitutto mi presento che è il titolo dell'album che parlo della mia esperienza che ho avuto a Tossi Kevales, le altre canzoni parlano uno sul tema dell'olocausto ebraico, ho voluto affrontare questo argomento per non dimenticare, poi un altro è il tema sulle truffe, che a giorno d'oggi si vende parlare spesso delle truffe online, poi una canzone d'amore e poi ovviamente ho messo il mio inedito che ho cantato a Tossi Kevales, lo sai perché? La mia canzone è ironica. Mi sono presentato, ho fatto un'ottima presentazione e poi sono partito con il mio inedito Caruso e ho fatto divertire a Mario De Filippi, soprattutto il pubblico, a Gerry Scotti, tranne Rudy Zerbi che è il solito cattivone, dice a tutti no, però ovviamente, giustamente lui è il... Sì, se diventate anche Mara Venier, vi aspetto tutti domani per la Notte Bianca, giorno 1 luglio, mi raccomando non mancate, e Rico Strano da Tossi Kevales, detto è Rico Jaguar.